Spiro! Questo è il mondo foresta d'estate. Qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di Avalar. Disgraziatamente Ripto ha preso il castello e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Comincia con il recuperare talismani di ciascun mondo in cui ti recchi. Grazie a tutti! stai andando bene spiro continua a raccogliere i talismani per aiutarci a sconfiggere ripto prima che si impadronisca di avalar e continua anche a raccogliere le sfere il professore pensa che ti aiuteranno a ritornare nel mondo del drago ho visto luccicare un oggetto in cima a questo muro potresti prenderlo ma prima devi imparare ad arrampicarti a a a a Non, non, non. Abbiamo sempre avuto problemi con i macinatori, ma ora hanno creato campi di forza per separarci! Se trovi Diodi, usali per disattivare i campi di forza! Penso che ci sia un Diodo qui da qualche parte, ma la mia vista non è più quella di un tempo! Cosa? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi ladri macinatori continuano a rubare le nostre pietre luminose. Se le recuperi tutte e attivi il nostro generatore, te ne sarò molto riconoscente. Grazie a tutti. 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 Spiro a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. ha chiuso la fabbrica. a tutti.